Ti, ti budabu ti buda, a, di, da budibu ti budè, a, ti budabu ti budè, budabu te, a. Mi chiamo Mercadini, Roberto il mio nome, vorrei sapere tutto, di quando e di come, io amo la storia e canto i poeti, mi ispira a pensare in mezzo ai frutteti. Non esistono problemi filosofici ma solo confusioni grammaticali, c'è dell'errore nella ragione, c'è da imparare dalle tanzare, siate pazienti e riflessivi, se apprezzo un hamburger non siate ossessivi, a tutti la massima libertà, ognuno si mangi quel che gli va. Santa la rana mannara che sbrana la banana, nana, per la valanga di ganga sulla galanga. Porco col bronco stronco, porco col bronco stronco, porco col bronco stronco. T, dibu dabu dibu dabu dibu dabu T, dibu dabu dibu dabu Esperidi, citrusinensis, diogene il cane, cumateniensis, la follia della mela, il dilemma del pomodoro, riso selvatico, pianeggiante, pudino alla cannella di mela, quanti morti hai sepolto nel tuo cortile, accusi di errori ma non sai di squisire, perciò siate aperti e riflessivi, non troppo serene, troppo ossessivi, si afferma un giorno, magari una sera, che forse la terra somiglia a una sfera. Santa la rana, mannara, che sbrana la banana, nana, per la valangia di ganga sulla ganga. Porco col bronco stronco, porco col bronco stronco, porco col bronco stronco. Certe mattine, certe mattine, guarda, non so cosa gli succeda, prendo degli esperidi, ma non degli esperidi normali, degli esperidi di citrusinensis, poi questi esperidi, io distritelo, distritelo, faccio uscire tutta una parte liquida, poi quella parte liquida lì, io quella parte liquida lì, me la bemo. Santa la rana, mannara, che sbrana la banana, nana, per la valangia di ganga sulla galanga. Porco col bronco stronco, porco col bronco stronco, porco col bronco stronco. Allora, di cosa stiamo parlando esattamente? Questa si sviletta lì, me la bemo. Grazie a tutti